bene io penso di essere in linea live come si dice naturalmente il brutto della diretta di questi tempi di questi mesi e che siamo costretti appunto a fare dei video senza praticamente avere nessun feedback dal pubblico sapete che l'oralità è una cosa molto diversa e molto importante quando uno fa lezione o perlomeno parla di qualche argomento semplicemente guardare negli occhi la gente vedere se queste se questi occhi tanto per cominciare sono ancora aperti o se invece già si sono chiusi per la noia e invece in video niente di questo succede quindi io farò una lezione al buio come si dice sperando di non addormentarmi io stesso quest'oggi parliamo di virus questa è una novità naturalmente non avete sentito questo argomento negli ultimi giorni nelle ultime settimane addirittura negli ultimi mesi che ormai sono più di due mesi che siamo stati confinati in casa però dovendo fare una lezione di matematica o perlomeno una chiacchierata che forse è più accurato come descrizione sulla matematica mi è venuto in mente che forse si potrebbe parlare infatti questo messo nel titolo della matematica più in particolare della geometria dei virus perché questi virus poverini li abbiamo un po bistrattati ci hanno bistrattato anche loro molto peggio io credo in tutto questo tempo però non li abbiamo mai considerati nella loro vera natura cioè ogni tanto abbiamo visto delle foto io l'unica foto che vi farò vedere è questa roba che naturalmente ho preso da internet vedete no è il famigerato il famigerato virus che appare come una palla con tanti aghetti dentro queste spikes come vengono chiamate e per il resto però sono organismi naturalmente piccolissimi nessuno li vede in giro questo è uno dei problemi naturalmente perché il contagio si diffonde in maniera invisibile ora come sono fatti questi virus e soprattutto cosa centra la matematica se tutto non si dovrebbe fare una domanda retorica che mi sono fatto io naturalmente da solo però una domanda di questo genere a un matematico perché il matematico direbbe naturalmente che la matematica centra sempre e dovunque qualunque cosa nella natura ma non soltanto nella natura cioè non soltanto in ciò che appunto si può definire scienza ma addirittura anche nell'umanesimo la matematica c'entra sempre semplicemente perché la matematica è il linguaggio del pensiero razionale o del pensiero astratto e quindi si può sempre guardare non soltanto la natura appunto ma addirittura anche le opere d'arte da un punto di vista astratto e razionale il razionalismo come lo potremmo chiamare quindi la matematica c'entra il problema è sapere se in realtà ce la facciamo entrare semplicemente tirandola per i capelli o se invece serve per descrivere qual è la vera natura delle cose infatti non a caso lucrezio così parlava la natura delle cose o se invece semplicemente qualche cosa che noi aggiungiamo perché il matematico parla il suo linguaggio altro non vede altro non sa e quindi dice semplicemente le cose che conosce la risposta appunto visto che la domanda è retorica e la risposta ovviamente negativa non è vero che la matematica non c'entra anzi la matematica è essenziale spesso per capire che cosa sta intorno a noi per capire la natura e in particolare per capire anche gli organismi e i microorganismi e in questo caso addirittura i virus chi è stato il primo tanto per cominciare che ha pensato a quale poteva essere la struttura matematica geometrica dei virus beh sono stati due in realtà che lavoravano insieme era il 1956 racconto brevemente la storia di come si è arrivati a determinare queste strutture 1956 che come tutti sanno viene dopo il 1953 cosa era successo nel 1953 quello è un anno fatidico per la scienza perché fu scoperta la famosa molecola macromolecola del dna che poi in realtà il contenuto diciamo così il segreto della vita addirittura quando i due signori che scoprirono questa molecola che sono appunto coloro di cui sto parlando e che non ho ancora nominato e quindi bene che nomini cioè James Watson da una parte e Francis Crick dall'altra stavano in Inghilterra quel giorno fatidico degli inizi del 1953 andarono al ristorante a mangiare con i colleghi e Crick disse a tavola oggi abbiamo scoperto il segreto della vita che cosa avevano scoperto in realtà Crick, Francis Crick James Watson aveva scoperto quella che poi è diventata un po' l'icona della biologia moderna del novecento questa molecola a doppia elica del dna doppia elica tra l'altro molto interessante poi lo capirono già subito nel loro primo lavoro Crick e Watson che aveva ovviamente a che fare col problema della riproduzione era qui il segreto della vita come mai perché la doppia elica è fatta in qualche modo come uno stampo e l'immagine oppure come lo sfondo e l'immagine e quando la molecola o quando la cellula si riproduce questa doppia elica viene per l'appunto divisa rimangono due parti ciascuna delle quali si può considerare come qualcosa a cui attaccare la sua immagine speculare e si formano due immagini questo detto in soldoni fu quello che Crick e Watson scoprirono all'epoca però ho già parlato subito dicendo doppia elica di un concetto che ovviamente è matematico quando voi guardate l'immagine della doppia elica sui siti internet o sui libri che avete sicuramente visto nel corso della vostra vita vi accorgete che è una struttura appunto fatta come quelle scale circolari che sono appunto scale cosiddette a elica e in realtà l'elica è un procedimento tipicamente matematico è semplicemente un punto che si muove in circolo però non soltanto su una dimensione perché altrimenti farebbe per l'appunto soltanto circolo e rimarrebbe in piano bensì oltre a muoversi in circolo va anche in una direzione che è perpendicolare e allora questo movimento continuo di un circolo che si muove nell'altra direzione perpendicolare crea una elica. Ora Watson e Crick scoprirono questa doppia elica nel 1953 divennero la coppia di scienziati più famosi del mondo tra l'altro Watson è ancora vivo perché ormai molto anziano molto più di 90 anni credo abbia 91 92 anni e la molecola ho detto divenne l'icona della biologia moderna e loro divennero gli scienziati più importanti ma che cosa fa uno scienziato quando ha scoperto ha rigiolto diciamo così il problema era più importante che si trovava davanti. Naturalmente cerca di applicare le conoscenze che aveva in capi che fossero analoghi o perlomeno simili a quello in cui erano partiti. Watson e Crick nel 1956 quindi tre anni dopo insieme scrissero un lavoro che si interessava per l'appunto della struttura geometrica dei virus ed è qui per l'appunto che arriva il nostro discorso. Ora i virus sono diversi naturalmente appena parlato accennato così alla doppia elica del DNA e i virus tanto per cominciare sono fatti con un'unica elica quindi non hanno questo meccanismo di riproduzione e questo purtroppo è il nostro problema se avessero questo meccanismo di riproduzione quello sarebbe una autoriproduzione la cellula si riproduce da sola mentre invece avendo soltanto una delle eliche e beh il virus è costretto a diventare parassita di qualche cos'altro e infatti il suo problema la sua pericolosità è proprio dovuta a questo che non sono degli organismi non si possono nemmeno considerare viventi i virus perché sono qualche cosa a metà tra l'animato e l'inanimato naturalmente riescono a riprodursi però non riescono a farlo da solo devono appunto andare a vampirizzare diciamo così un organismo che gli permetta di farlo e questo è appunto quello che succede nelle epidemie quindi anzitutto c'è un'unica doppia elica non è nemmeno di DNA e di RNA che è una cosa simile DNA è una lunga sequenza di parole potremmo dire scritte in un alfabeto di quattro lettere l'RNA è la stessa cosa anch'esso è una lunga sequenza però in genere un po' più corta nel caso dei virus di parole scritte anch'esso in un alfabeto di quattro lettere però le quattro lettere non sono esattamente le stesse del DNA DNA usa quattro lettere che sono quelle che appaiono nel titolo per esempio del film gattaca che molti di voi avranno visto e che ovviamente si riferiva a problematiche di genetica e l'RNA è più o meno simile anche lui in alfabeto di quattro lettere tre sono le stesse che ci sono le DNA e una è cambiata ora il problema è che questo unico filamento diciamo così questa unica elica singola non doppia dell'RNA dei virus in qualche modo si deve muovere si deve spostare deve appunto andare a vampirizzare altre cellule per potersi riprodurre e allora che cosa fa fa esattamente quello che facciamo noi come individui quando usciamo di casa ci dobbiamo spostare e quando dobbiamo fare i viaggi lunghi saliamo su un'automobile il virus non ha degli automobili ma degli involucri e questi involucri sono l'analogo appunto dell'automobile in cui il virus si mette dentro e attraverso questi involucri si può appunto muovere e questi involucri sono per l'appunto quelli che vediamo in fotografie come questa che ho fatto vedere e in particolare in quel caso lì vedete che c'è un involuco che a vederlo sembra una palla un palloncino diciamo così quindi sembrerebbe essere sferico però la cosa è un po' più complicata e qui interviene appunto il lavoro di Watson e Crick da una parte e la matematica dall'altra anzitutto ho accennato brevemente al fatto che l'RNA l'informazione genetica del virus è molto corta sono circa 30.000 basi cioè 30.000 lettere si può dire di questo di questo scritte in questo alfabeto al quale accennavo prima il dna per esempio nostro è una cosa molto più lunga sono miliardi 3 miliardi di basi quindi 30.000 e 3 miliardi ovviamente c'è una certa differenza ma come fa il virus avendo un'informazione genetica così corta a riuscire a funzionare perfettamente tra l'altro come piccola parentesi forse bisognerebbe dire che noi consideriamo questi virus un po' come degli intrusi nella nostra vita sono venuti a cambiare le nostre abitudini a invaderci a tenerci in casa eccetera però dobbiamo considerare il fatto che in realtà i virus sono la maggioranza della popolazione mondiale se voi prendete per esempio un metro cubo di acqua degli oceani lì dentro ci sono virus in quantità inimmaginabili cose che noi non potremmo nemmeno pensare o meno che mai vedere ovviamente se non con microscopi elettronici e andando a vedere proprio nel microcosmo quindi i virus sono praticamente le forme di semi vita perché ho detto che non sono realmente letteralmente delle forme di vita le forme più diffuse tra l'altro sul su questa terra quindi da un certo punto di vista il mondo è loro e certamente non è nostro anche se noi cerchiamo in qualche modo di tenerli fuori il più possibile dalla nostra vita ma il problema che watson e crick si posero e appunto come fa un aggeggio diciamo così con un'informazione genetica così corta a riuscire a essere così efficiente deve in qualche modo risparmiare informazioni deve fare le cose in una maniera molto efficiente in maniera che quella corta sequenza di informazione genetica gli permetta da una parte di costruire questo suo involucro cioè di costruire l'automobile che poi lo porta in giro e dall'altra parte tutto quello che riesce a risparmiare in questa descrizione potrà poi invece dedicarlo al suo piano d'attacco cioè più un virus riesce a costruire degli involucri che siano efficienti dal punto di vista della loro descrizione e più ovviamente sarà poi alla fine letale o perlomeno adatto alla sua riproduzione perché può usare il resto del suo rna appunto per dedicarlo ad altre funzioni allora pensando a questi a questa problematica molto generale come fa un virus a risparmiare informazione l'idea di watson e crick fu che beh in fondo si può immaginare che l'involucro in cui il virus si pone sia fatto nella maniera più semplice possibile ora cosa significa più semplice possibile beh dipende potrebbe essere per esempio qualche cosa che semplicemente è fatto come un foglio un foglio di carta come come questo per esempio un foglio di carta che poi il virus semplicemente appallottola e viene fuori come potete vedere qua una specie di di cilindro oppure potrebbe essere qualche cosa che non è piano bidimensionale bensì è già per sua natura tridimensionale quindi qui vedete anzitutto subito intervengono due nozioni tipiche della matematica la nozione di dimensione due dimensioni o tre dimensioni e il primo passo che watson e crick fecero fu di dire beh supponiamo di voler costruire di pensare appunto dei virus che hanno un involucro cilindrico come un razzo per esempio potremmo immaginare in questo caso più che l'automobile il virus potrebbe essere seduto su appunto no su un razzo e il razzo è fatto per l'appunto in maniera cilindrica come si può costruire in maniera efficiente un cilindro pensarono watson e crick e la loro idea fu quella di dire beh semplicemente si può pavimentare il pavimento oppure il foglio di carta che vi ho appena fatto vedere in una maniera regolare e il fatto di farlo in maniera regolare permette al virus di specificare soltanto la forma delle piastrelle che coprono questo pavimento e una volta che questa forma è stata specificata poi si può costruire mettendole queste piastrelle tutte uguali una vicino all'altra si può costruire questo foglio di carta che poi viene avvoltolato e diventa un cilindro e allora sorge il problema di quali sono le piastrelle più semplici che si possono usare per pavimentare un pavimento e questo è un problema che a prima vista appunto non ha nulla a che vedere con la biologia è un problema di pura geometria un problema che già i greci si erano posti e ovviamente chiunque di voi abbia una casa spero tutti o quasi perlomeno guarda i suoi pavimenti si accorge che i pavimenti nostri sono fatti esattamente nello stesso modo nessuno si fa un pavimento costruendolo tutto intero normalmente il pavimento si pavimenta appunto si piastrella usando delle piastrelle che sono tutte uguali le piastrelle più ovvie che di solito si usano sono quelle quadrate anche perché sono le più facili da fare da impilare e da mettere vicine però i greci si posero il problema di dire ma ci sono altre piastrelle a parte quelle quadrate ovvie che possono riempire l'intero piano tutto uguali e ci pensarono un momentino e dico beh anzitutto devono essere regolari quindi devono essere quello che i matematici chiamano dei poligoni regolari cioè tutti gli altri un certo numero di lati tutti uguali e anche gli angoli tutti uguali per avere un poligono naturalmente il numero minimo di lati che si può avere tre perché se ne abbiamo solo due non si chiudono non si fa una forma quindi eh il meglio possibile è il tre questo è un triangolo per esempio poi c'è il quadrato naturalmente il pentagono l'esagono quanti sono i poligoni regolari i greci ci pensarono nel momento e dicono vabbè sono infiniti perché noi possiamo dividere un cerchio in eh un numero eh finito di parti qualunque no e per ciascun numero che ci viene in mente 17 per esempio c'è un poligono che ha 17 eh lati eh tutti uguali e 17 angoli tutti uguali quindi 3 4 5 6 eccetera possiamo usare piastrelle qualunque per esempio possiamo piastrellare una camera con delle piastrelle a 17 lati e i greci pensarono un momentino e dissero no in realtà eh lo possiamo fare col triangolo perché il triangolo eh regolare ha tre angoli tutti uguali e e quindi poiché la somma degli angoli deve essere 180 gradi i triangoli sono di 60 gradi no allora se noi prendiamo un triangolo e poi attorno al vertice ne mettiamo sei in realtà si finisce che di di costruire anzitutto quello che viene un esagono no e comunque mettendo sei piastrelle attorno ad un vertice si ottiene appunto eh una piastrellazione perché ce ne sono sei ciascuna ha un angolo di 60 gradi 6 per 6 fa 36 e quello è l'angolo giro 360 questo è brevemente diciamo così l'idea della dimostrazione che il triangolo effettivamente copre l'intero piano il motivo per cui il quadrato copre anche lui il piano è perché noi possiamo questa volta prendere quattro piastrelle eh quadrate metterle vicine eh a un vertice e anche lì eh poiché l'angolo questa volta è di 90 gradi e però ne mettiamo solo quattro eh no per quattro fa 36 quindi di nuovo si copre 360 gradi ho citato poco fa il fatto che se mettiamo sei triangoli insieme otteniamo un esagono quindi è facile capire che allora anche l'esagono può servire per ricoprire il pavimento perché è semplicemente la somma di eh sei triangoli però se vogliamo prendere l'esagono di per sé l'esagono ha angoli di 120 gradi possiamo metterne tre vicini a uno stesso angolo 120 per tre fa di nuovo 360 e ne abbiamo già trovate tre di piastrelle abbiamo trovato la piastrella triangolare la piastrella quadrata e la piastrella esagonale abbiamo saltato quella pentagonale e quella pentagonale è un po' più complicata perché effettivamente se uno va a vedere il pentagono ha angoli di 108 gradi e se vogliamo metterne tre vicini e 108 per tre ovviamente fa eh 324 e non non è 360 non si chiude diciamo così però rimane troppo poco per metterne un quarto quindi tre non sono sufficienti e quattro sono già troppo questa è la dimostrazione semplicemente che eh il pentagono regolare non può coprire il piano quindi abbiamo triangolo quadrato esagono e sopra ce ne sono infiniti abbiamo detto di questi poligoni sì sono infiniti però eh i loro angoli sono maggiori di quello eh dell'esagono perché avete visto che gli angoli crescono il triangolo era 60 poi quadrato 90 il pentagono 108 l'esagono 120 l'ettagono e eh di lì in su hanno angoli di più di 120 e cosa succede se se ne mettono due beh naturalmente non si arriva a 360 ma se se ne mettono tre poiché ciascuno è più di 120 si supera il 360 cioè in altre parole non è possibile usare nessun altro poligono per fare delle piastrelazioni regolari e allora Quazzo Leclic dice vabbè allora quindi o triangoli o quadrati o eh esagoni fecero uno studio su quali fossero eh di queste tre piastrelazioni le più la più efficiente quale di queste tre fosse la più efficiente si può immaginare che non c'è la più perché o è il quadrato e allora in quel caso si eh quello è ma altrimenti se è il triangolo va bene anche l'esagono e viceversa l'esagono allora va bene anche il triangolo perché sei triangoli fanno un esagono e un esagono si scompone in sei triangoli e facendo appunto uno studio di di con calcoli molto semplici scoprirono che la piastrellazione triangolare o esagonale che appunto due forme della stessa piastrellazione è più efficiente di quella eh quadrata allora capirono che se un virus vuole eh costruire diciamo così un suo involucro cilindrico allora gli conviene usare appunto delle piastrelle triangolari eh o delle piastrelle esagonali e questa è la prima soluzione cioè capirono che eh questa famiglia di virus che ha questi involucri cilindrici usa eh nella sua eh informazione genetica nel suo RNA l'informazione per dire come deve essere fatta la piastrella triangolare e messe insieme tutte queste piastrelle triangolari si costruisce il razzo diciamo così l'astronave per andare in giro però eh non tutti i virus hanno lo stesso tipo di eh involucro così come non tutti noi abbiamo lo stesso tipo di auto anche se i costruttori di auto io poi sono a Torino tra l'altro non soprattutto uno di quelli no eh 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 amerebbero no che tutti prendessimo lo stesso tipo di automobili quindi ci sono automobili diverse coloro i virus che non usano le astronavi cilindriche usano delle automobili eh di tipo differenti quali? Beh qui eh il problema è che allora eh questa volta andiamo eh nello spazio bisogna vedere quali sono gli analoghi delle piastrellazioni eh del piano però questa volta nello spazio cioè andiamo a vedere quali sono non i poligoni regolari ma i solidi cosiddetti poliedri regolari qui la cosa è un po' più complicata però il tipo di ragionamento è sempre quello che facevo prima perché si tratta di fare questi poliedri regolari mettendo insieme delle facce tutte dello stesso tipo ora quali sono le possibili facce che si possono usare? La prima più ovvia di tutte è il triangolo ovviamente abbiamo il solito triangolo equilatero e come possiamo costruire un solido usando soltanto delle facce triangolari beh questo eh l'avevano già capito gli egiziani molto prima di di Watson e Crick naturalmente e anche prima dei geometri greci perché gli egiziani facevano delle piramidi no? E eh avrete visto tutte le immagini delle piramidi e se voi guardate per esempio le piramidi che ci sono a Giza vi accorgete che le facce delle piramidi effettivamente sono tutte triangolari però la base di una piramide è quadrata di solito e quello non è allora un solido regolare perché ha quattro facce triangolari e poi una base quadrata si potrebbe fare una piramide a base triangolare quello avrebbe tre facce triangolari e una base anch'essa triangolare questo effettivamente è un solido regolare il più semplice di tutti quello che si era il tetraedro gli egiziani non lo chiamavano così perché non parlavano greco non andavano liceo classico eh anzi in realtà erano i greci all'epoca che andavano a scuola eh in Egitto e quindi i greci che parlavano egiziano perché l'Egitto è stato un po' la culla della matematica occidentale e tutti i grandi nomi dei matematici greci che noi conosciamo eh Talete, Pitagora eccetera sono tutti andati appunto a studiare eh in Grecia ma chiuso eh questo fatto si chiamava tetraedro perché i greci poi l'hanno chiamato così no a quattro facce quindi quattro triangoli messi insieme formano un solido effettivamente regolare le piramidi egiziane e abbiamo detto non sono regolari perché la faccia è quadrata ma se prendiamo due piramidi che hanno ciascuna quattro facce triangolare le incolliamo per la base otteniamo un solido che ha otto facce triangolari quello si chiama ottaedro naturalmente no e anche quello è un solido eh regolare e poi eh c'è ancora un altro eh che è un po' più complicato ora eh tra l'altro eh uno pensa che eh stiamo facendo le cose a caso come come ci viene in mente di fare questi solidi no? Beh abbiamo dei triangoli che hanno naturalmente come prima sempre degli angoli di sessanta gradi quanti ne possiamo mettere insieme di triangoli in un vertice di un solido? Beh attenzione prima volevamo che la somma fosse uguale a trecentosessanta perché cercavamo di ricoprire il pavimento adesso vogliamo che sia minore di trecentosessanta altrimenti il solido sarebbe piatto e non sarebbe più un solido no? Ci deve essere la punta no? Allora quando si mettono insieme tre triangoli sessanta 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 viene centottanta no? E si ottiene il tetraedro. Quando eh se ne mettono insieme invece quattro eh sei per quattro ventiquattro no? E effettivamente otteniamo l'ottaedro. È possibile mettere insieme cinque cioè in modo che eh la somma degli angoli sia eh trecento gradi. Attenzione vi dico subito che sei non si può perché sei farebbero appunto trecentosessanta gradi ma sarebbe piatta la cosa. Quindi si può soltanto fare tre, quattro, cinque. Tre è il tetraedro, quattro è eh il eh nei vertici e l'ottaedro e cinque che cos'è? Beh questo lo scoprirono i pitagorici eh molto tempo dopo gli egiziani. Effettivamente si possono mettere eh si può fare un solido in cui i i triangoli convergono cinque a cinque nei vari vertici e questo solido si chiama icosaedro perché in realtà ce ne vogliono venti per fare una specie di eh pallone. Quindi ci sono tre solidi regolari fatti di facce triangolari che sono tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro. Ok. Poi possiamo passare al poligono successivo. Prendiamo per esempio il eh quadrato. Si possono fare, si può fare un solido regolare con dei quadrati. Beh almeno tre ci devono si devono mettere insieme perché eh come prima eh ci volevano eh almeno tre eh lati per fare eh un poligono. Qua ci vogliono almeno tre poligoni per fare eh un solido. I quadrati hanno angoli di novanta gradi. Se ne mettiamo insieme che cosa viene? No? Diciotto, ventisette vengono duecento e eh settanta gradi. Effettivamente nel cubo che tutti conosciamo mettiamo un quadrato sotto, poi un quadrato così, un quadrato cosà, nei vertici del cubo ci sono tre quadrati perpendicolari l'uno agli altri due che eh formano come somma degli angoli appunto duecentosettanta. E si può fare eh qualche cosa con quattro quadrati? E beh no perché di nuovo nove per quattro fa trecentosessanta sarebbe piano quindi c'è un unico solido che eh ha eh le facce quadrate ed è il solito cubo. Eh cosa succede con i pentagoni? Ah ah qui diventa interessante perché mentre prima il fatto che gli angoli del pentagono fossero di cento e otto gradi e quindi mettendone tre insieme non si copriva tutto l'angolo giro e quindi non c'era una piastrellazione pentagonale. Qui lo stesso motivo ci permette invece di mettere tre eh di questi pentagoni eh messi insieme e ottenere quello che eh si chiama un dodecaedro, dodici perché eh appunto ci sono dodici facce pentagonali. Più di tre naturalmente non si può fare perché supereremmo addirittura no? Eh i trecentosessanta e e a questo punto non non si può fare nient'altro. E gli esagoni abbiamo già detto prima che già tre esagoni sono già piatti quindi non riescono a fare nessun solido e ancora peggio eh sopra. Quindi mentre prima c'erano soltanto tre piastrellazioni regolari del piano questa volta invece ci sono cinque solidi regolari. Tre che hanno facce triangolari etraedro, ottaedro e eh icosaedro. Uno che ha facce quadrate, il cubo, e uno che invece ha eh facce pentagonali che è il dodecaedro. Cinque solidi regolari. Quale di questi è quello che eh i virus scelgono come loro involucro? Beh di nuovo si può fare uno studio analogo a quello che eh Watson e Crick avevano fatto per il piano e per gli involucri cilindrici e scopriamo come si poteva immaginare che eh in realtà eh è quello che eh ha le facce triangolari e il massimo numero no? E cioè l'icosaedro. Questo solido che ha venti facce triangolari e dodici vertici è in realtà la macchina, l'automobile preferita eh dai virus per spostarsi. E questa fu un'intuizione, attenzione, perché all'epoca non era ancora ben chiaro nel cinquantasei eh se effettivamente poi i virus funzionassero nel modo che Watson e Crick avevano immaginato. Cioè se effettivamente seguissero questi principi diciamo così di efficienza e eh anche di concisione dell'informazione. Ma poi si scoprì che effettivamente è così. La maggior parte dei dei virus appunto hanno questi involucri eh di tipo icosaedri. E a questo punto eh che cosa bisogna fare allora? Beh l'idea eh di Watson e Crick eh è stata appunto eh quella di dire dovranno avere questa forma icosaedrica oppure cilindrica ma loro non avevano capito bene come poi il virus effettivamente sarebbe riuscito a realizzare queste cose. Uno potrebbe dire beh può fare semplicemente l'informazione per questi grandi triangoli, questi venti triangoli che messi insieme fanno un icosaedro però sono triangoli grandi, sono complicati. Il virus deve è una cosa piccolina, deve costruire queste proteine che poi fungono appunto messi insieme da eh parti dell'automobile eh che che li porta in giro e allora forse è più semplice qualcuno pensò un signore che si chiama Krug che in realtà poi prese premio Nobel per la per la medicina anche lui eh in seguito dico anche lui perché ovviamente Watson e Crick l'avevano preso ma per i loro studi sul DNA non per i loro studi sul virus invece eh Krug e altri lo presero proprio per questi studi sul virus pochi anni dopo agli inizi degli anni sessanta capirono che forse è più semplice per il virus riuscire a costruire dei triangolini piccolini che poi messi insieme riescono a formare la struttura di un dodecaedo. E come gli venne in mente la cosa? Beh gli venne in mente andando a passeggio come spesso succede quando si fa matematico, quando si fa la scienza e vedendo in un parco o comunque in una parte della città una struttura architettonica che non aveva nulla a che fare naturalmente con i virus, una struttura fatta da un architetto che poi è diventato molto famoso che si chiamava Buckminster Fuller, sono le cosiddette cupole geodesiche e già questo architetto aveva capito che si possono fare delle cupole mettendo insieme dei triangoli piccolini che si possono incastrare o in cui lati si possono incastrare uno con l'altro facendo delle specie di reticolati metallici e poi del vetro in mezzo. E quando videro questi signori in particolare questo Krug, videro questa struttura capirono che forse il virus poteva fare esattamente la stessa cosa. E questo è effettivamente quello che succede. Ora come lo si fa effettivamente? Beh la cosa è complicata ma c'è un solido che non è regolare, è quasi regolare, che è quello che alla fine poi si è capito che il virus usa per fare la sua struttura. Vi faccio vedere questo solido, ce n'ho uno qua a portata di mano ma qualcuno di voi l'avrà già visto. Questo voi direte ma questo lo conosco, questo non è un solido matematico, questo è in realtà un pallone da calcio. Vediamo un po' come è fatto il pallone da calcio. Guardate qui, vedete che qui ci sono delle facce nere che sono dei pentagoni regolari e poi le facce bianche forse si vedono peggio però effettivamente le facce bianche sono degli esagoni. Ora come mai questo non è un solido regolare? Non è un solido regolare perché appunto le facce non sono tutte dello stesso tipo. Ci sono alcuni pentagoni e alcuni esagoni. Come si ottiene il pallone da calcio? E anzitutto chi l'ha ottenuto? Chi è stato il matematico che ha avuto questa idea geniale? Beh è stato Archimede. E come mai Archimede è venuto in mente l'idea di fare un solido di questo genere? Beh il motivo è molto semplice. Archimede veniva dopo Pitagora, molti secoli dopo, quattro secoli circa. Pitagora e i pitagorici avevano già scoperto il dodecaedro e l'icosaedro, cioè i solidi con 12 facce pentagonali oppure 20 facce triangolari. Gli altri tre li avevano già scoperti gli egizi, cioè tetraedro e l'otaedro con 4 e 8 facce triangolari e il cubo con 6 facce quadrate. Si sa, l'abbiamo in parte dimostrato anche se solo a parole che ci sono solo quei cinque solidi regolari, arriva Archimede che è il più grande matematico dell'antichità e dice ma anche a me sarebbe piaciuto fare qualche solido, però non ne posso fare di regolari. E allora gli venne l'idea di farli semiregolari, per l'appunto come questo, cioè in cui le facce non sono tutte uguali ma sono solo di due tipi, quindi è quasi irregolare. Come gli è venuto in mente questo solido? Molto semplice, perché l'idea è di prendere un icosaedro e di tagliargli le punte. Quante sono le punte dell'icosaedro? L'ho accennato prima, sono 12, le facce sono 20, ma le punte, i vertici sono 12 e quindi tagliando queste facce vengono fuori questi 12 pentagoni neri che noi vediamo sul pallone da calcio. Come mai sono dei pentagoni? Beh, l'abbiamo detto perché nell'icosaedro cinque facce triangolari convergono in un vertice, quando noi tagliamo quello che rimane appunto è il segno, diciamo così, la traccia di queste cinque facce triangolari. E come mai ci sono anche degli esagoni qua giù? Beh, perché naturalmente quando uno taglia una faccia triangolare, gli taglia le punte e quello che viene fuori è un esagono. Allora tagliando al icosaedro i 12 vertici si formano 12 facce pentagonali che sono quelle nere e quello che rimane sono invece 20 esagoni, perché le facce erano 20, perché erano 20 triangoli a cui si sono tagliati le punte. E voi direte e a noi questo che cosa interessa? Interessa perché i virus in realtà hanno una struttura simile a questa, sono in realtà degli icosaedri, ma hanno dei triangoli, guardate qua, quanti triangoli servono per costruire un pentagono regolare? E beh, naturalmente se ne possono fare cinque che convergono dentro il vertice, pardon, dentro il centro, no? E quanti ne servono invece per fare gli esagoni? Ne servono sei, questo l'abbiamo già detto varie volte. Allora facendo un unico tipo di triangolino piccolino e mettendone sei a volte insieme per costruire le facce esagonali e altre volte cinque insieme per costruire invece le punte pentagonali, ecco che il virus può specificare una piccola informazione per costruire, vediamo quanti sono questi triangoli, però se riusciamo a fare il calcolo per capire qual è la matematica del virus. Dunque, abbiamo detto il icosaedro ha 20 facce triangolari, quando le tagliamo rimangono 20 esagoni sul pallone da calcio, ciascuno di questi esagoni si scompone in sei triangoli, 20 per 6 fa 120, ma poi rimangono i vertici, ci sono 12 vertici, ciascuno di questi vertici è pentagonale, diciamo così, e quindi ci vogliono 5 triangoli, sempre triangoli equilateri, per ciascuno dei 12 vertici, cioè altri 60, 60 triangolini per i vertici, 120 triangolini per le facce esagonali, in tutto 180, cioè l'involucro del virus è fatto di 180 triangolini. Voi direte, ma queste cose qui, insomma, chi ci crede? E allora vi faccio rivedere, e questa è l'ultima cosa su cui poi possiamo finire, l'immagine che avevamo fatto vedere prima leggermente, guardate qua, non c'eravamo concentrati sul fatto che ci sono queste cosiddette spikes, guardate qui che c'è una spike, eccola qua, in centro, qui, e intorno quante ne ha? 5, e vedete che sono accennati questi 5 triangolini, di cui vi ho detto poi ce ne sono in realtà 60, perché sono 12 di questi, e guardate di qua invece che cosa succede, questo è un esagono, e questo esagono invece è fatto di 6 triangolini. Allora adesso quando guardiamo indietro, vedete che ci sono, qui ho semplicemente evidenziato una parte esagonale e una parte pentagonale, ma ce ne sono molto di più, perché di esagoni ce ne sono 20, e di parti pentagonali invece ce ne sono 12. E questo è il modo in cui la matematica in realtà interviene, quindi questo virus che ha soltanto appunto 30.000 basi, ne può usare pochissime per specificare le proteine che servono per costruire questi piccoli triangolini, e poi deve dare l'informazione numerica, deve dire di questi triangolini ne facciamo 180, e poi li mettiamo insieme nel modo naturale, perché? Perché già Bookminster Fuller, l'architetto si era accorto, lui cercava di fare queste cupole a pezzi triangolari, e si è accorto che benché lui cercasse di farle in maniera regolare, cioè esagonale, ogni tanto gli veniva un pentagono, e questo c'è un motivo naturalmente, perché non è possibile fare una sfera fatta soltanto con esagoni, l'abbiamo detto, non c'è un solido regolare di quel genere lì, e oggi sappiamo c'è una formula, che è la famosa formula di Eulero, o formula di Cartesio, perché era stata scoperta prima, che ci dice il motivo per cui poi alla fine ogni tanto devono saltare fuori dei pentagoni, e sulla sfera se noi mettiamo tutti questi triangolini regolari ne saltano fuori 12 automaticamente, cioè il virus non ha da specificare il fatto che alcuni di questi triangolini che lui costruisce o che dice di costruire in realtà devono aggregarsi 5 a 5 e altri invece 6 a 6, li mette tutti insieme e automaticamente viene fuori questa meravigliosa forma per l'appunto, che è la forma del pallone da calcio, però invece di essere fatta con pentagoni e con esagoni, è fatta con triangoli, 6 triangoli per ogni esagono e 5 triangoli per ogni pentagono. Questa è la struttura del virus e questo è il motivo per cui questo virus è così maledetto, diciamo così, perché può dare una piccola, una corta specifica geometrica per costruire il proprio involucro e tutto il resto del suo RNA lo può dedicare per l'appunto a una strategia di attacco e naturalmente qui per cercare di contenere questa strategia d'attacco ci vuole ben altro che la matematica, ci vuole ovviamente la medicina, la virologia eccetera, però vi sarete accorti e su questo naturalmente chiudo il discorso, che benché forse abbiate sentito parlare poco della geometria del virus, perché poi in fondo questa interessa più che altro i virologi e coloro che vogliono studiare la struttura in dettaglio e interessa i matematici che sono contenti di vedere che ancora una volta la matematica è stata applicata, però la matematica non è inutile nemmeno nella lotta contro il virus, avrete visto le curve, ci siamo abituati tutti a sentirli per esempio della crescita esponenziale dei contagi, abbiamo visto le previsioni numeriche che vengono fatte che ci dicono attenzione perché c'è un coefficiente di contagio che si chiama l'R0, che è in realtà la misura della derivata del contagio per chi conosce la matematica e questo coefficiente è quello che determina quanto a lungo dobbiamo stare chiusi in casa, quanto a lungo ci deve essere questo confinamento e che cosa succede se invece il confinamento è più corto di quello che dovrebbe essere e come ripartirà l'epidemia. Quindi in questo discorso che naturalmente ho fatto di fronte a una telecamera, quindi a me stesso, riuscendo a non addormentarmi io, ma non so se sono riuscito a tenere il sveglio voi, perlomeno la cosa che ci portiamo a caso, che possiamo ricordarci appunto nel futuro è che anche in momenti come questi la matematica è essenziale, è essenziale per il contenimento dell'epidemia, appunto per le previsioni statistiche su quello che succederà, ma sorprendentemente forse perlomeno per qualcuno è essenziale anche per la struttura stessa e per la natura stessa del virus. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, sempre naturalmente ci sia stato qualcuno dall'altra parte, che poi qualcuno sia rimasto fino a questo momento e speriamo invece prossimamente nel futuro di ritrovarci nei luoghi deputati per le conferenze, in particolare al circolo dei lettori dove magari potremo rifare questa conferenza pensando al virus che è passato e soprattutto facendo vedere un po' più di immagini che naturalmente servirebbero in questo discorso e che invece purtroppo ho dovuto cercare di evitare semplicemente con dei giri di parole. Comunque tanti auguri a tutti e naturalmente state attenti perché la matematica ci dice che soprattutto in Piemonte, dove siamo qui appunto col circolo dei lettori, in Piemonte e in Liguria il contagio è più forte, spessiamo le regioni a massimo rischio e quindi cerchiamo di stringere i denti e magari stare ancora un po' di giorni in casa a guardare altri video o a leggere altri libri perché altrimenti la matematica ci dice che dovremmo di nuovo essere rinchiusi per contenere di nuovo l'epidemia. Grazie ancora e auguri a tutti e buona salute. Arrivederci. Grazie a tutti.